Ciao a tutti ragazzi, ben entrati su Fortress finalmente, l'idea è che si può comunque fare questa mappa con il metodo dove dobbiamo difendere Cioè noi dobbiamo non cercare di morire, abbiamo due vite e ovviamente adesso possiamo andare ragazzi, come cosa chiede? Beh potrebbe anche essere così, però ragazzi comunque adesso dobbiamo incominciare Ok ragazzi adesso, allora potrei stare da due parti, questa e quella perché ragazzi finalmente Ma, 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 i belli controller, il momento che la PS5, ma, ma, possono confermarlo anche per lo sto facendo vedere in questo, in questo video Il controller, beh ragazzi, incominciamo, io potrei andare con questo Non mi devo prendere il mitra Ragazzi comunque, questo momento sto giocando da Xbox perché non dava la PS5 purtroppo Ok, dove vai? No, non puoi... Ok, intanto Però non subito Ma sì che si può, eh io sono male Eh ma però stai con noi scusa Eh ma però stai con noi scusa Io sono, io sono Ti dovi fare così, io di dare il piccone perché so io ci c'è Io sto, io sono, io sono Io, 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 sai che la futtana era Ma guarda qua Ragazzi attenzione quando finisci la ok adesso andiamo nel rift ragazzi andiamo in fondo dobbiamo proteggere il prossimo punto si il prossimo punto di evacuazione muoviamoci ok ci sono tutti comunque ragazzi oggi mi sono dimenticato che non vi ho presentato allora praticamente siamo con Daniel ormai riconosciuto a memoria i miei iscritti tutti i miei calippi li conoscono a memoria conoscono a memoria chi sono i bei tizi ragazzi l'ultimo video che ho fatto è Among Us ragazzi vi ringrazio tantissimo per i 30 iscritti grazie mille ci siamo arrivati non mi ricordo perché me ne avevano ciato Emanuele stamattina mi ricordate il video che abbiamo fatto con un gas dove io mi chiamavo FBI? no dove te urlavi esatto anche dove mi chiamavo FBI? ecco mi sono un gas adesso mi chiamo Emanuele 002 quindi se mi vedete attenzione con il mio spedetto ok io non ho non ho trattato minimale ma Emanuele ormai capiamo che ogni 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 dove c'è scritto 002 sei tu lo so è il mio numero preferito eh che fanno più schifo degli zombie di livello 1 ok ragazzi comunque questo video dobbiamo superare i quanti quanti like no sì 40 facciamo i 7 like no no ma non ci credo ok ok vabbè ragazzi muori Che se muori E le susciti però se muori un'altra volta Crepi definitivamente E non puoi manco osservare E' orribile Devi stare in fermo Raga io spero di non morire Più di due Più di una volta Ragazzi una volta ci sta Però dopo una volta No Ok Grandi Io ho poche monete quindi non posso aprire Pochi Beh già intanto E vabbè tra un po' posso aprirlo Ok Qualcuno può aprire? Ok Eh ma vieni Apri Ragazzi avete delle monete o dei colpi direttamente? No No io ne ho pochi Eh ma apri Hai detto che ce l'avevi? Ah ok scusa Comunque qua è un bel casino No mi sono manco tolto da Facebook Ho vinto dalla webcam E quindi direi che sto di togliermela quando siamo in pausa Eh grazie mille Fortnite Io c'è comunque per una doppia pistola a pochi questi Mi sembrava che fosse il passaggio del muro Venite Ok scusa che il tuo microfono va un po' piano Io adesso posso aprire Venite Qua Da niente Daniel vieni Prendi No dai vieni Dai Avete colpi a R? No io non posso Eccomi ragazzi Aia Via Avevo 50 dietro Mamma mia Ragazzi Qua raga Eh quelli congetti sono forti raga Poi arriveranno anche qua Le puzzolenzo No pure c'è il ceccione Fanno 5 di danno Fanno malecane No Emanuele è morti Ricomincia dall'inizio Aiuto 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 Anche io mi prendo un flopper Anche io mi faccio questo e mi prendo un flopper Daniel Aiuto 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 ragazzi aiuto, ragazzi aiuto ragazzi aiuto eh ma vieni, vieni, vieni aiuto, aiuto mamma mia io per fortuna ho un carica di già oh my god ah scappa scappa, 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 scappa qua si crema tra pochissimo eh ma entra qui scappa 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 dammi sono dietro di te e allora corri, corri corri si, corro, corro stiamo all'inizio stiamo all'inizio hai detto che non c'è un po' più invenzione per favore ah ma lei mi è esplosito davanti sto tizio dai dai ma ti aiuto no i zombie gelati no perché sono proprio dei gelati da mangiare scappa è la maletta corri, corri, corri corri, corri, corri eh ma scappa prendi un flopper grande vai raga come ve lo posso vedere lo so lo sappiamo anch'io ma è utile raga raga sono morto sono morto ragazzi non prendiamo più quella vita e io sono dovuto andare perché ho pochissima vita per favore oh aiuto eh no 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 maialino 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 bello aiuto aiuto hai ragione facciamo un giro giro tondo i zombie sono così stupidi che fanno sempre il giro giro tondo no bello tranquillo ragazzi sono morto ragazzi sono morto ragazzi sono morto ragazzi aiuto sono defunto io aiuto e lo so mi dispiace ragazzi però devo finire per i miei iscritti sta mappa e lo so io lo stai da solo no ci crepo eh ti sentiamo malissimo ragazzi ragazzi eeeh ci fatto ok eccoci qua eccoci qua ragazzi non è possibile daniele è il vip dobbiamo proteggerlo se no se crepa se crepa ogni volta che sono questo personaggio non sono mai in il vip dove vuole andare dobbiamo seguire i suoi sabbie ragazzi voglio farvi vedere la mia testa la mia testa no è bellissimo iron man è bellissimo io sono bellissimo perchè non ho la testa ragazzi io sono bellissimo perchè non ho la testa eh ragazzi questo qua è bellissimo perchè ha lo smoking con la con la maschera di coso ai romani è bellissimo ragazzi ma banana mi mette la testa della scagnacione se si 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 guai io vado da filippo perchè voglio farvi vedere ai ragazzi a casa dammi guarda quanto sono bello guarda no 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 guardate tanto senza la faccia eh ma infatti non pensi neanche guardatemi guardatemi sono bellissimo guardatemi sono bellissimo a me non piace a me non piace ahahahahah ahahah guardate ragazzi faccio l'atropazia dai dai no 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 adesso fbi open up me lo dai subito non hai capito me lo dai subito no no il pompa il nuovo pompa leggendario guardatela tutta amistosità io ce l'ho il nuovo pompa leggendario io io prendiamo in safe se io ho una sparabende tranquilli andiamo in safe andiamo in safe andiamo in safe guardate parco ehi ahaha ahahah ahah ahahah ahahah ahah ahahah ahahah ahah ahah ahahah sapete che io ho anche il rampino il capo ha fatto un incidente dov'è il capo ho vado ad uccidere quel vip aiuto mi lagga aiuto aiuto il capo di battaglia è un inferno uomo senza testa aiutami il capo sta morendo male vabbè ragazzi come dire ragazzi mi sa che lo scuolo ha leggermente digerito la mia sveglia vabbè ragazzi dai su comunque spero che questo video vi sia piaciuto tantissimo salutate ciao 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 ciao